Ciao a tutti amici, sono io, Yulia War e oggi sono qui per recensire Sunset Shimmer e Twilight Sparkle dei My Little Pony Equestria Girl Allora, questa recensione la voglio dedicare alla mia amica Gloria di Milano che mi aveva chiesto le nuove Equestria Girl purtroppo non le ho trovate, quindi ho deciso di prendere questa scatola vedete, con due bambole che è della prima serie, che io non ho visto tutta ma da quanto ho capito, Twilight appena ha avuto la corona, subito l'ha persa infatti gliel'ha rubata Sunset, che sarebbe questa che mi piace molto, anche se nella prima serie è malvagia, ma dopo sarà buona infatti, come possiamo notare, tutte e due cercano di prendere la corona che sta al centro e si ritroverà ad attraversare uno specchio e arriverà in un mondo parallelo a Equestria che sarebbe in una scuola dove tutti i pony hanno sembianze umane ma sono comunque colorati e questa è Twilight, mi piace molto anche lei allora, iniziamo subito, le bambole sono due, quindi la recensione sarà molto lunga il prezzo è buono, visto appunto sono due ed sono costate 21 euro più o meno quindi molto buono sempre su Amazon come possiamo notare, la scatola è proprio divisa a metà notare anche la corona che si trova a metà da una parte c'è il cutie mark di Twilight, appunto dalla parte di Twilight ed è tutto in questi colori, viola, fucsia mentre da quest'altra parte, quella di Sunset cioè non si vede molto bene, ma c'è comunque il suo cutie mark ed è tutto sul rosso e sul giallo c'è poi ovviamente come al solito My Little Pony con questo arcobaleno e in più alla Ypsilon si è aggiunto questo ferro di cavallo a forma di cuore con su scritto Equestria Girl la decorazione della scatola, ovvero questi coricini in ferro di cavallo sempre a forma di cuore tutto viola e davvero davvero carino e qua si può trovare il simbolo di Twilight quello di Sunset e poi la corona che quindi è contesa fra le due non capisco perché abbiano messo solo Twilight potevano mettere pure Sunset c'è il suo pony quindi non è semplicemente umana cioè non è in forma umana magari potevano mettere da questo lato Twilight e da questo Sunset sarebbe stato molto carino qui invece hanno messo 5 e più quindi è consigliata dai 5 anni in su e possiamo notare c'è Twilight molto bello in mezzo ai suoi capelli proprio però da ragazza vedete qua c'è ovviamente Asbro e se giriamo c'è la sua faccia sempre i soliti simboli e questo ferro di cavallo a forma di cuore con il cuoricino e ovviamente My Little Pony Equestria Girl tutto compresso e non solo la faccia continua molto carino con i capelli fino a qui molto bello ovviamente qua dice Sunset Shimmer e Twilight Sparkle quindi Sunset e Twilight da questo lato si può vedere sempre vabbè la decorazione della scatola ma anche le bambole e ovviamente ci sono sempre i simboli il sito dei My Little Pony Equestria Girl mlpeg.com e poi una scritta minuscola chiedi a un genitore prima di navigare online anche lo sfondo come possiamo notare è diviso in due da una parte si può anche vedere meglio c'è il simbolo di Sunset e dall'altra quello di Twilight ci sono tutte e due in versione pony cioè no pony scusate in versione normale umana e qua quando Sunset pensa a Twilight dice non riavrà mai la sua corona mentre Twilight pensando a Sunset dice mi ha rubato la corona c'è sempre il simbolo dei My Little Pony Equestria Girl e accanto dice uno specchio magico collega il mondo di My Little Pony a Canterlo Tie ovviamente ci mostra gli altri personaggi che sono Rainbow Dash che spero di comprare un giorno Fluttershy Applejack Rarity e Pinkie Pie migliaia di attenzione e Hasbro bene adesso è il momento di aprirle quindi ci vediamo dopo fogli di carti inutili bene eccole adesso togliamole da tutti questi elastici questa è la spazzola è molto molto carina come al solito come anche quelle delle Ever After Eye e delle Monster Eye è un po' inutile comunque è molto molto bella lo ribadisco ha questo ciuffo un po' sembra Fluttershy però è molto carina in questo caso è fucsia pensavo che ne avrebbero messa uno anche per Sunset magari gialla o blu o blu o rossa ma no comunque è molto bella bene eccole qui sono ancora un po' traballanti perché non hanno uno stand e sono certo non è complicato tenerle in piedi però comunque rischiano di cadere in ogni momento allora è stato abbastanza semplice deboxarle molto semplice quindi anche per il debox non è difficilissimo certo ci è voluto un po' ma ok anche perché erano due allora con queste bambole arrivano queste due carte giusto così con i nomi e con il sito le ali di Twilight molto belle vedete di questo giallo brillante che si può mettere se ho capito a tutti i pony perché hanno un buco sulla schiena in modo tale da poter fare delle creazioni c'è poi questa borsetta molto carina che è più per Twilight anche se ha delle decorazioni tipo quelle di Sunset molto carina e c'è quest'altra che ha più i colori per Sunset ma ha le stelline di Twilight c'è anche questo book piccolino molto carino dove ci parla un po' dei personaggi davvero bello Pinkie Pie pure fantastica che si può anche aprire ci mostra anche le bambole bene poi ci sono degli adesivi per tutti i personaggi vedete Applejack Pinkie poi vabbè questo ovviamente è di Twilight poi c'è Rarity Fluttershy e Rainbow Dash ci sono degli orecchini questi rossi più adatti ovviamente a Sunset e questi altri diciamo dorati che sono per Twilight dopo glieli metteremo e ovviamente la fantastica Corona che ancora non ho ben capito come si metta dopo vedremo bene iniziamo da Sunset perché anche se è cattiva mi piace molto come possiamo notare lei forse è l'unica che ha una pelle normale perché è sempre un po' scura quindi non è proprio rosa carne però comunque va su rose un rosso rosea molto bello ha questi occhi blu che notiamo hanno anche una fiammella dentro e c'è da questo lato come un tatuaggio a fuoco ci sono le sopracciglia e questo ombretto rosa con sopra un ombretto rosso anzi arancione molto chiaro e lo stesso vale per l'altro lato a parte per il fuoco ha poi queste labbra abbastanza grandi rosse ovviamente non ha le orecchie perché si trovano sopra infatti proviamo a mettere i suoi orecchini molto carino ma adesso glielo tolgo per quanto riguarda i capelli sono da una parte biondi e dall'altra rossi quando invece nel cartone e anche sulla scatola li mostra tutti insieme per questo ho deciso di mettere almeno qualche capello da questo lato molto carino comunque vedete sono abbastanza lisci alla fine sono un po' ondulati come dovrebbe essere e hanno questa parte più lunga che dovrebbe indicare la coda che come possiamo notare è un misto fra rosso e biondo i capelli sono morbidissimi davvero sembra che usi non lo so un particolare shampoo e quindi la spazzola non è inutile certo i capelli se ne vanno facilmente quindi fate molta attenzione per quanto riguarda i vestiti ha questa bellissima giacca nera proprio come se fosse di pelle che è un po' sinceramente da cattiva nera vedete è molto carina che purtroppo non si può togliere perché è attaccata vedete quindi se c'era il buchino per mettergli le ali purtroppo non le possiamo mettere poi ha questo vestitino molto corto secondo me troppo che va qua sul dorato e poi sopra questa parte molto carina rossa brillante luccicante le sue gambe come possiamo notare sono una gialla è una di questo rosa rosso e anche del fuoco e infine le sue scarpe che come possiamo notare hanno questa suola che quindi la legge in piedi hanno questi lacci molto carini e poi solo da questa su questa scarpa c'è una fiamma molto bella con questo tacco che mi piace molto sunset mi piace molto adesso le mettiamo la sua borsa inoltre è bendable ovviamente alla testa alla spalla poi una cosa che non ha twilight al braccio quindi qua al gomito alla mano purtroppo no e all'anca comunque molto carina diamole la borsa bene e adesso passiamo a twilight anche twilight mi piace molto è davvero davvero molto carina adesso i capelli un po' così perché ovviamente appena uscita dalla scatola però comunque è molto carina ha questa pelle violacea lilla diciamo così lilla e ovviamente i suoi occhi viola mi piace molto già per il colore il viola è uno dei miei colori preferiti poi ovviamente il suo cutie mark nell'occhio ha queste bellissime ciglia voluminose vedete sono solo tre però comunque sono belle lunghe ha poi questo ombretto celeste e sopra un altro che va a sumare rosa con dei brillantini ha anche il suo cutie mark qua sulla guancia ovviamente non ha le orecchie e ha questo rossetto luccicante qua ci sono le sue orecchie proviamo a mettere uno degli orecchini che ovviamente non riesco a metterli ecco più o meno così le sta dietro insomma la preferisco senza orecchini come possiamo notare ha questa frangetta senza niente normalissima viola anche i suoi capelli sono completamente viola eccoli sono abbastanza lisci nel cartone sono un po' ondulati così ecco le hanno messi anche qui ma per la maggior parte sono lisci e hanno qualche ciocca rosa ovviamente ha questa parte che è più lunga per indicare la coda sempre viola e fucsia e insomma sono molto belli anche questi molto morbidi e sono facili da spazzolare ovviamente non esagerate se ce l'avete anche voi perché rischiano di togliersi molti capelli infatti è piena di capelli la mia scrivania comunque adesso passiamo al vestito che è molto semplice ma carino come possiamo notare è tutto viola dorato e fucsia con queste decorazioni astratte ci sono anche qua delle stelline e c'è un po' di tulle brillantinato come per indicare le stelle molto carino ovviamente da dietro si può togliere e possiamo notare anche il buco dopo le metteremo gli occhiali le ali ci sono anche queste belle scarpe qua sono un po' rovinate e sono un po' come degli stivaletti notare anche qua questa piccola saetta mi ricorda Rainbow Dash c'è questo bellissimo fiocco bianco che continua ovviamente i lacci adesso le mettiamo le ali per poter volare felice quindi molto semplicemente ok così dovrebbero rimanere speriamo che non cadano ogni 5 secondi eccola le stanno anche molto bene è bendable alla testa ovvio alla spalla e all'anca e sono davvero davvero carine tutte e due l'unico problema è questo sono come avevo sentito dire anche in altri video di queste Questria Girl monche quindi non hanno i piedi e non potrete mai metterli se vi piace cambiare i vestiti a me no però se vi piace cambiare i vestiti non potete mai mettere magari la scarpa di una Barbie e così alle Barbie non potete mai mettergli le scarpe alle nuove Questria Girl so che questo non c'è ma comunque per me non ci sono problemi visto che non le non gli cambio le scarpe i vestiti già che ci siamo mettiamogli la corona non so come così proviamo così ecco bene spero che questo video vi sia piaciuto qua ci sono anche gli accessori qua sotto che cosa posso dire di queste Questria Girl sono molto carine quindi ve le consiglio per quanto riguarda il fatto che siano monche senza piedi perché monche proprio non si può sentire può essere un problema specialmente se poi le scarpe rischiano di togliersi sempre bene allora adesso passiamo i saluti allora oggi voglio salutare Alice Bratti Anna Star 03 Alicia Campione Adriana Lo Giudice Aldo Noto Vevo Super Alessandra Spitalieri Kawai Dream 35 Claudia Airoldi Agostino Elico Aurora Girl Arnaud Sara Trivisonne Pasquale Sarnataro Roberto Negri e Desiree Nicifora bene spero che questo video vi sia piaciuto noi ci vediamo alla prossima ciao ciao